Buonasera amici telespettatori di Udinese TV, questo speciale lo dedichiamo all'Udinese Store, argomento di attualità perché oggi il Messaggero Veneto, vi faccio vedere l'articolo pubblicato oggi dal quotidiano Udinese, non siamo qui per confutare questo articolo ma per prendere degli spunti e fare un discorso, dei chiarimenti, delle precisazioni sull'argomento Udinese Store, la demolizione, l'abbattimento di questo manufatto che in qualche modo poteva essere evidentemente ritardato fino al termine degli europei, qui sul giornale si scrive possiamo andare anche in primo piano con il touch, neanche gli europei salvano lo store dell'Udinese, va demolito e in realtà qui non si tratta di salvare l'Udinese Store ma si tratta, si trattava perché poi vediamo se sarà ancora possibile farlo, di portare a compimento questo atto dopo gli europei e quindi evitando alla comunità di Udine, al comune di Udine, alla città e ai cittadini di spendere soldi inutilmente perché abbattendo ora lo store dell'Udinese, la casupola bianconera che trovate vicino allo stadio, abbattendola non sarà più disponibile per gli europei, per la UEFA che è la richiesta per farne un accreditation center e quindi bisognerà poi costruirne uno nuovo a spese della collettività del comune, eccolo qui, lo vedete all'Udinese Store. Con me in studio c'è il dottor Alberto Rigotto, buonasera dottor Rigotto. Buonasera. Allora, intanto ho detto qualche sciocchezzo, è tutto corretto quello che ho detto in introduzione? No, no, introduzione perfetta, in realtà partiamo da molto lontano. Partiamo da lontano e le faccio subito una domanda, si parla di abuso edilizio, nelle parole dei nostri amministratori della città di Udine si parla di un abuso edilizio, la stregua di una casa costruita abusivamente, è corretto definirlo così? Allora, appunto partiamo da lontano, il problema è un reggio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, partiamo da qui, questo reggio decreto appunto di circa 100 anni fa prevedeva e prevede tuttora perché alcuni reggi decreti, e ci tengo a sottolineare questa frase, sono ancora in vigore in Italia, prevedeva una distanza obbligatoria e minima per costruire dai cimiteri di 200 metri. Non voglio dilungarmi ma tutti capiamo perché una volta era così, perché c'erano delle norme sanitarie comunque precise, una volta ai noi i cimiteri venivano fatti in determinato modo quindi avevano una logica. In realtà questa logica naturalmente negli anni è venuta a mancare perché appunto le norme sanitarie sono state più stringenti e quindi questi luoghi naturalmente sacri anche di culto vengono fatti con tutti i crismi e quindi questa distanza naturalmente negli anni è stata diminuita, tant'è che su Udine ad esempio il cimitero di Cusignacco ha 60 metri di distanza, il cimitero di San Vito che è quello monumentale, quello molto vicino allo stadio ha addirittura 55 metri di fascia di rispetto, l'unico cimitero noi diciamo non solo a Udine ma sicuramente in tutta la regione e probabilmente in tutta Italia, l'unico cimitero che ha ancora questa fascia di rispetto di 200 metri è il cimitero dei Rizzi. Questo è stato il problema per cui quando in realtà si parla di abuso... Quanti anni fa parliamo di non del regio decreto ma della costruzione del manufatto? Il manufatto è stato costruito nel 2011 e attenzione anche questo davvero molto importante, l'udinese si era già fatta promotrice prima di costruire il manufatto con tra l'altro ripetute richieste dicendo semplicemente sentite riduciamo questa distanza perché in realtà è una distanza che non ha nessun senso logico, la domanda appunto lo ripetiamo è stata fatta prima di costruire, facciamo la domanda di riduzione, facciamo la domanda di costruzione cosiddetta in precario per poter comunque edificare l'edificio e abbiamo edificato. Quindi capite che la parola abuso davvero stona perché oggi con tutte le polemiche sono state in altre regioni dove tra l'altro addirittura per degli abusi veri edilizi sono successe anche delle nefandezze, dei drammi davvero importanti, davvero sembra fuori luogo, assolutamente fuori luogo usare questa parola. Questo non è un abuso e viene fatto un edificio in un luogo che è distante meno di 200 metri dal cimitero e quindi in realtà noi abbiamo semplicemente chiesto di ridurre questa distanza. Dobbiamo veramente internerci su qual è il problema. C'era dunque anche un'autorizzazione provvisoria per metterlo su nelle more di una revisione del piano regolatore che poi abbiamo ripetutamente richiesto e che per chissà quale motivo non è mai arrivato. E tra l'altro apriamo una parentesi, non c'è mai stata una risposta, la sappiamo ufficiosamente che è una risposta che nemmeno ripeto davanti ai teleschermi, però in realtà risposte ufficiali di fronte a delle riteate richieste di essere trattati come tutti gli altri cittadini che giustamente hanno chiesto e fatto fare la riduzione delle distanze per il cimitero. Come quelli di San Vito dove è stata ridotta da 100 a 85 e poi a 55 metri da distanza. Esatto e sono stati costruiti recentissimamente anche dei centri commerciali importanti, quindi bene ha fatto ad esempio quell'imprenditore che poi ha costruito quell'impianto che ripetiamo è a soli 55 metri dal cimitero. Quindi anche in questo caso forse due pesi, due misure, ma alla fine come giustamente lei ha ricordato c'era un tema, noi in realtà tutto sommato lo store siamo riusciti a ricavarlo appunto all'interno della pancia del nuovo stadio e quindi in realtà per l'Udinese Calcio in qua totale e vorrei aprire anche qui una bella parentesi, in realtà noi e abbiamo anche comunicato con una comunicazione dicendoci guardate noi siamo pronti a questo punto a demolire, quindi non si preoccupi nessuno, non ci saranno spese a carico del contribuente per la demolizione, noi abbiamo già scritto una lettera per la quale aspettiamo una risposta scritta, non naturalmente tramite giornali, tramite conferenze stampe, abbiamo detto noi siamo pronti alla demolizione, domani lo facciamo, però cara amministrazione comunale c'è una richiesta della UEFA che vuole avere quell'edificio perché serve, non è un vezzo della UEFA, perché in quel posto lì? Perché è un posto che è fuori dallo stadio, è strategico, è nel posto migliore da un punto di vista dei parcheggi e quindi ha detto vorremmo avere quel posto. Bene, allora adesso andiamo ad ascoltare quello che ha dichiarato ai nostri microfoni il vice sindaco Loris Michelini che ha parlato di questo specifico problema, poi ha aperto anche ad altre problematiche, presunte problematiche che sarebbero in piedi tra il Comune e l'Udinese, magari daremo una risposta anche a questo. Ascoltiamo Loris Michelini. Ma lì è un argomento un po' delicato perché c'è stato un ricorso, il Consiglio di Stato, c'è stata una sentenza, lo stesso stabile non rientra nei parametri, diciamo, dal cimitero e quindi è un po' una situazione delicata, tra virgolette. È chiaro e evidente che la amministrazione comunale non può far finta di niente, non può dire, beh, siccome ci viene richiesta dalla Federazione, diciamo di sì anche se no. È un discorso che va un attimino gestito. Veramente abbiamo in corso parecchie gestioni particolari con l'Udinese Calcio, la stessa scritta della Dacia Arena, la stessa situazione dei campi, la gestione del campo principale con problematiche di lavori eseguiti e non pagati, ovvero che non rientravano e che lo stesso Udinese ha detto io non vi do i soldi della concessione, fin tanto qui non mi riconoscete i lavori che abbiamo eseguito e via dicendo. Cioè abbiamo ereditato una serie di problematiche. Per quanto riguarda lo store non è niente, non è che sia quello il problema, il problema è la legalità, perché abbiamo abbattuto adesso ultimamente delle case che sono pericolanti, sul cui il privato non riusciva a intervenire e vogliamo mettere in sicurezza tutte queste strutture, tra virgolette chiamiamole abusive, non in grado di reggere, non possiamo fare differenze, ecco in sostanza. Poi tutto è possibile se gli accordi portano a una valorizzazione da parte, ma l'ente pubblico deve essere un ente che deve andare al di sopra di questa valutazione. Non accettabile accomunare delle case pericolanti che giustamente devono essere demolite con un Udinese store che è un edificio perfettamente funzionante, assolutamente in regola con tutte le norme edilizie, quindi questo non è accettabile. Poi del resto discutiamo tutto, però questo è inaccettabile anche detto dall'amministratore pubblico e tra l'altro il vice sindaco della città. Poi sulle altre cose siamo qui per discutere. Volevo dire una cosa, se in questo paese mi riferisco al sistema Italia, non cominciamo a ragionare a volte mettendo davanti il buonsenso rispetto alla legge, perché qui è chiaro che se vogliamo parlare in termini tecnici, Michelini dice delle cose che in termini tecnici possono anche essere corrette, sotto alcune tecniche. Guardi che anche nella lettera ultima di proposta noi non chiediamo mica illegalità o di essere di sopra della legge, noi abbiamo dato anche delle proposte tecniche e legali per risolvere il problema. Il problema è uno solo, che esiste una competizione europea, tra l'altro di altissimo livello e fino ad oggi mi deve essere consentito, io mi sto facendo interprete, dicendo guardate a tutti che il prossimo anno a Udine c'era un evento che la UEFA paragona, non paragona, lo considera come la finale di Champions League. La finale di Champions League è sempre uno dei primi tre eventi mondiali sportivi e non che esistono sulla faccia della terra. Quindi c'è un evento straordinario e fino a questo momento io sto dicendo guardate che c'è, gli unici che stanno facendo qualcosa, come sempre, è l'Udinese Calcio. E addirittura abbiamo detto guardate che c'è questo store che deve essere comunque fatto e se noi lo abbattiamo voi butterete via dei soldi pubblici, che è un errore. Avete fatto anche una stima di quanto verrà a costare, non l'abbattimento perché quello è a carico dell'Udinese, quindi neanche ci interessa dire ai cittadini quanto bisognerà spendere. Ma per rimettere su una struttura simile? Noi sappiamo quanto a noi era costato, era costato attorno ai 250 mila euro quella struttura, quindi tra l'altro ormai otto anni fa. Quindi questa è la cifra di quanto era costata. Ed è qui che ritorno al discorso del buon senso. Se l'Udinese ha già dato la sua, più che disponibilità, ha manifestato l'intenzione di abbattere questo manufatto, ha semplicemente chiesto di differire questo atto a dopo gli europei per evitare alla città di Udine di spendere qualche centinaio di miliardi di euro. E ci sono delle possibilità negarie. Ci sono delle possibilità negarie. Assolutamente. E dunque il perché non si fa è un mistero. Quindi questo manufatto probabilmente verrà abbattuto prima degli europei e quindi la città di Udine dovrà spendere, non parliamo di investimenti, ma di spesa, perché poi non potranno mettere un manufatto, anche lì ci vorrà immagino un'autorizzazione provvisoria, perché se questo è abusivo lo sarà anche quello che successivamente verrà edificato. Anche se poi speriamo che prima o poi qualcuno ci dica come mai non viene ridotto la distanza cimiteriale dai 200 metri ai 50 o 100 metri, i quali ogni cimitero del Friuli potrebbe essere. Potrebbe essere. Sono malizioso? Non lo so però. Sta di fatto che è un tema sicuramente sul tavolo. Altro argomento sul tavolo, rimanendo nell'ambito degli europei, come sapete nella nostra regione, al di là della città di Udine, ci sarà anche quella di Trieste, quello nello stadio Rocco. Qui il discorso va fatto in generale, e cioè l'udinese ha il suo stadio di proprietà. Adesso lasciamo stare il discorso a battimenti e tutto il resto, però una riflessione su questo va fatto. Gli europei Under 21 all'udinese costeranno, all'udinese giusto? Mi correga se sbaglio, circa 3 milioni di euro per adeguare l'impianto a quelle che sono le richieste della UEFA. Sono soldi che l'udinese avrebbe potuto fare a meno di spendere e di investire, ma che investirà per migliorare lo stadio, secondo le indicazioni della UEFA e quindi lasciare poi alla collettività, perché ricordiamolo, questo è uno stadio che poi rimarrà alla collettività. Assolutamente. Non dimentichiamoci. 3 milioni di euro. C'è una finale europea. C'è una finale, 3 milioni di euro. A Trieste, dottor Rigotto, quanto dovranno spendere? Quanto hanno speso e complessivamente, alla fine della giostra, la comunità di Trieste, la città di Trieste, quanto avrà speso di soldi pubblici? L'amministrazione comunale di Trieste, che tra l'altro è sempre anche molto presente a tutti gli incontri che vengono fatti, perché ci sono gli incontri degli europei, insomma, dell'organizzazione europea abbastanza frequentemente, hanno messo 6 milioni e mezzo di euro. 6 milioni e mezzo di euro per adeguare... I soldi pubblici. Bilancio comunale, bilancio del comune di Trieste, sono stati investiti 6 milioni e mezzo per sistemare, direi anche piuttosto bene, il Nereo Rocco, che sarà una delle due sedi friulane per, appunto, ospitare tre partite del gironcino che verrà fatto, perché noi a Udine dovremmo fare tre partite del gironcino e più la finale. Perché a questo punto... Perché dice dovremmo? Perché sembra davvero, no? Perché poi anche l'altra frase del vice sindaco quando dice gestioni particolari, da sempre a vedere, dicendo e buttando lì delle frasi che non sono particolarmente eleganti. Dovremmo, perché sembra che questa manifestazione interessi solo all'Udinese Calcio. Sembra che sia un problema che un'opportunità. Assolutamente. Noi ci siamo prestati. Poi è chiaro che per noi è stato motivo di orgoglio perché la federazione e poi la UEFA ha visto nel nostro stadio uno stadio accogliente, bello per poter ospitare una finale europea. Però in realtà noi ci stiamo prestando. E lo stiamo dicendo a tutti. Guardate che la finale europea è qualcosa che riguarda la comunità regionale, la comunità di Udine. E sembra che sia un problema solo nostro. Quindi in realtà dico dovremmo, perché se continuiamo in questo modo, insomma, noi abbiamo davvero delle difficoltà. Vorremmo in qualche modo che ci potessero sedere a tavolino con serenità molto maggiore di quella che è fino a questo momento per appunto poter risolvere e affrontare assieme. Io quante volte sto dicendo, anche tutti i parcheggi che sono fuori, che è un'area molto vasta e che è di proprietà assolutamente del comune, è qualcosa che non è particolarmente decoroso. Io non so se qualcuno ha ben capito. Io due anni fa sono stato a Cracovia a vedere la finale degli europei interventuno. Era Spagna-Germania. Erano presenti i due primi ministri a quella partita. Cioè un evento considerato stratosferico, uno stadio pienissimo, un'organizzazione incredibile. E non lo so, qui forse qualcuno non ha ancora ben capito quello che succederà. Tra l'altro venerdì ci saranno i sorteggi e scopriremo anche quali nazioni verranno a giocare qui. Che potrebbero essere nazioni interessanti, l'Austria, la Croazia, nazioni anche sotto ogni profilo. Quindi questo vuol dire migliaia di persone che si riverseranno nel mese di giugno nella nostra regione tra Udine e Trieste e quindi con un'economia che ovviamente se ne avvantaggerà. Totalmente. Però anche sotto questo profilo per potersi avvantaggiare bisogna organizzare le cose. Per tempo bisogna dare un'ospitalità interessante, bisogna in qualche modo capire che quando arriva il turista il turista va accompagnato e voglio dire una persona che viene a vedere una partita di calcio è un turista a tutti gli effetti. Quindi bisogna fare una grande organizzazione. Ovviamente noi da una parte siamo a disposizione ma dall'altra ogni volta che lanciamo un segnale, quello dello store è un segnale significativo, perché a questo punto noi siamo a posto sotto ogni profilo, va bene, lo toglieremo. Però in realtà stiamo dicendo magari anche quei soldi che l'amministrazione comunale si appresta a spendere in quello store, forse sarebbe opportuno magari riversarli in ambito di promozione per il territorio, in ambito di altre attività che in qualche modo potrebbero essere molto più profitebili rispetto a quello di dover ricostruire un po' come fai il buco e copri il buco. Io credo che il buon senso dovrebbe portare a non fare quell'attività, o semplicemente non spendere di quei soldi. Perché è evidente questo, no? E quindi ribadiamo, prima di chiudere questo nostro speciale, il concetto che qui non si tratta di salvare lo store dell'Udinese, si tratta di salvare i soldi delle casse comunali da un esborso che francamente si può evitare perché lo store l'Udinese lo ha edificato, lo ha costruito all'interno del nuovo stadio, è già attivo con lo sponsor tecnico Macron che lo ha in carico in gestione, l'Udinese non c'entra più assolutamente nulla con lo store diciamolo chiaramente, quindi sia quello interno, se non perché ospita lo store appunto ufficiale dello sponsor tecnico, con quello esterno non ha più nessuna ragione di chiedere che rimanga lì. Ora, da ora però, demolirlo adesso, in Italia le cose vanno talmente per le lunghe su tutto, mi sembra che qui si sta andando in fretta per una ragione inspiegabile. Mi permetto in chiosa, no? Perché veramente secondo me è venuto il momento, anche chi oggi è al governo, ieri all'opposizione ed erano i primi a tirar fuori tutte queste problematiche, io dico una volta per tutte, una volta per tutte. Riconosciamo, no? Che l'Udinese calcio si è fatta non solo interprete, ma ha promosso la ristrutturazione e la costruzione di un nuovo stadio ponendo soldi propri e quindi non gravando sulla comunità, di fatto con uno stadio che è a disposizione della comunità. E tra l'altro gli europei mi permettono anche di affrontare in due secondi un altro tema, lo ricordavo mentre stavo un po' riflettendo sulle cose che avremmo dovuto dire questa sera. Io ricordo che noi come Italia abbiamo partecipato come candidatura due volte agli europei, europei quelli della nazionale maggiore, 2008 e 2012. Se vi ricordate e chi c'era, c'era un progetto di ristrutturazione dello stadio Friuli fatto dalla pubblico che parlava di un investimento di 60 milioni di euro e quello avrebbe un po' sistemato lo stadio. A questo punto invece, fortuna voluto per la comunità Udinese, che quel progetto non è andato in porto, lo stadio è stato dato all'Udinese e l'Udinese con la metà dei soldi, perché è stato fatto un investimento di circa 32 milioni di euro, soldi dell'Udinese, quindi del privato abbiamo ristrutturato lo stadio. Pensate allora ogni volta che il senato per l'amministratore dica ci sono gestioni particolari, ma perché una volta per tutte non viene riconosciuto questo grande merito all'Udinese Calcio, naturalmente la famiglia Pozzo che in questi anni ha condotto egregiamente Udinese Calcio. No, ogni volta gestioni particolari e queste cose che sembrano banali alla fine poi sono quelle che a livello nazionale ed europeo vengono sempre riconosciuto. Uno stadio all'avanguardia, prendiamo i premi, vengono a fare le finali europee, ogni volta che erano nazionali chiedete alla nazionale spagnola, la prima squadra quando è venuta a fare l'amichevole, che cosa ha detto di questo stadio? Insomma alla fine, una volta per tutte, pensiamo davvero alle cose positive e cerchiamo una volta per tutte di traguardare al futuro roseo di quello che potrebbe essere la gestione importante di uno stadio, una squadra di calcio di Serie A ormai da oltre vent'anni. La partita è chiusa o c'è ancora qualche speranza di evitare un salasso per le casse comunali nei prossimi giorni, prossime settimane, visto che anche Michelin ha detto che se poi le trattative, insomma gli incontri, gli accordi portano a determinate soluzioni, si può forse trovarle? La parola fine è in quel luogo, normalmente là è davvero fine di tutto. A 200 metri dallo storico. A 200 metri, quindi in realtà voglio dire il buon senso porta a dire che fino all'ultimo c'è la speranza e la possibilità, voglio dire siamo uomini, siamo dotati di un cervello, la possibilità comunque di far quadrare queste cose nell'ambito assolutamente di una legalità assoluta che può essere rispettata. E sarebbe un atto che permetterebbe di risparmiare soldi, quindi sul quale difficilmente qualcuno avrebbe anche politicamente qualcosa da ridire, perché si andrebbero a risparmiare soldi in un momento in cui si cerca di fare spending review dappertutto, buttare via così i soldi per correre dietro a una demolizione che può essere fatta adesso come tra 6-7 mesi dopo gli europei, speriamo insomma che prevalga il buon senso. Assolutamente. Nell'ambito della legalità, questo lo vogliamo assolutamente risottolineare. Dottor Rigotto, grazie. Grazie a voi per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di serata con Udi News TV.